facciamo un po' scorrere lo scanner sopra a sinistra la regione attiva numero 3814 che ha fatto appena un paio di ore fa un flare m1 punto 7 e l'altra regione attiva questa nuova è inersa questa notte che ha appena 20 ore di età adesso il sole sta come avete visto da sopra tramontandomi dietro la casa davanti si vedono già le foglie però possiamo vedere tramite questo scan la regione attiva in studio sotto una protuberanza del sole e sul lembo diciamo ore 9 ancora una reminiscenza della protuberanza infatti un flare c 9.25 circa un'ora fa un lembo solare adesso un mano che va indietro abbiamo un effetto di bilanciamento l'intensità per cui si vede molto bene la protuberanza che il sole ha in quella direzione considerate questa protuberanza è lunga due volte se non tre il pianeta terra grazie per l'attenzione 11 settembre quasi ore 17